Hola hola! Skincare e menopausa. I cambiamenti che soffre la tua pelle durante la menopausa, prima e dopo la menopausa, come si trattano con la skin care? In questo video ti do tutte le risposte. Subito il video! Bentornati, benvenuti, tutti benvenuti, incluso quelli che siete arrivati nuovi in questo canale. Innanzitutto mi presento perché forse non mi conoscete. Io sono Luis Campos, sono il dottor Luis Campos, mi occupo di medicina e chirurgia estetica, sono un medico, sono un chirurgo. Questo accento non è italiano, questo accento è spagnolo, ma è da dieci anni che sono qua in Italia, qua a Milano, città dove lavoro, dove vivo e da dove vi sto parlando. E se ti è capitato di arrivare o capitata di arrivare nuovo o nuova in questo canale, benvenuto, benvenuta e sappi che questo canale l'utilizzo per parlare di dermocosmetica, di dermocosmetica, di integratori, di tutto quello che tu puoi fare a casa tua, io sono qua a casa mia, non sono in studio, quindi tutto quello che noi possiamo fare, ognuno di noi a casa nostra, per trattare la nostra pelle, per migliorare l'aspetto della nostra pelle, per avere un invecchiamento rallentato, un invecchiamento armonico. Qua non parliamo di estravogliere il viso, di cambiare il viso, solamente di come invecchiare del modo migliore e avere una pelle sana e bella. E quindi se ti piace questo contenuto, qua sotto ti puoi iscrivere al mio canale, se ti piace il contenuto di questo video puoi fare così, se non ti piace puoi fare così. Se invece vuoi sapere più sulla medicina estetica, la chirurgia estetica, su quello che faccio in sala operatoria, su quello che faccio nel mio studio di medicina estetica, qua nel mio Instagram puoi trovare tante tante risposte e altre informazioni. E invece se sei più interessato, interessata in come io mischio i prodotti di cosmetica che utilizzo, eccetera, e ti piace il mondo di TikTok, anche su TikTok mi trovi. Adesso sono un pochettino pigro con TikTok, ma adesso che ho iniziato l'anno mi devo rimettere in sesto. Ok? E ogni settimana vi parlo di questo, di Dermocosmetica. E oggi un argomento che mi avete chiesto in tante, e dico tante perché non posso dire tanti, perché gli uomini non soffriamo la menopausa. Ben venga per noi, non so, se è un bene o un male, decidete voi cosa sia. Ok? Voi avete la possibilità di avere i figli, noi non ce l'abbiamo, e quindi biologicamente non ce l'abbiamo, e quindi forse la menopausa è quello che si paga per poter avere i figli. Adesso viene tutto un discorso femminista, e mi tagliate il collo, ma non voglio entrare a quello. Allora, quello che sì che è certo è che durante la menopausa ci sono dei cambiamenti, non solamente a livello generale nel vostro corpo, se no anche a livello della pelle. Tenete presente che la menopausa viene descritta per un abbassamento del livello degli estrogeni, principalmente che sono gli ormoni femminili, quelli che determinano tutte le caratteristiche femminili, come l'aumento dei seni, il sviluppo delle ovaie, lo sviluppo degli ovuli, la possibilità di essere madri, di rimanere incinta, eccetera, eccetera. Quindi durante la perimenopausa o premenopausa, che arriva intorno ai 45-50 anni, si cominciano a abbassare i livelli di estrogeni. E quello, oltre a avere cambiamenti a livello del corpo, come sono le caldane, sono le palpitazioni, sono lo stress, l'insomnia, eccetera, dà anche delle alterazioni sulla pelle. Si dice, si è visto scientificamente, che per esempio circa il 30% del collagene che ha la nostra pelle scompare nei 5 primi anni di menopausa. Quindi perdiamo collagene, perdendo collagene perdiamo che la nostra pelle sia elastica. Quindi perdiamo una pelle compacta, una pelle elastica e comincia a comparire la lassità, soprattutto in questa zona del viso e soprattutto si vede una pelle più sottile, più spenta, che si comincia a riempire di piccole rughette. Ok? Ci troviamo soprattutto con una pelle più secca. Perché? Perché gli estrogeni, che a volte vengono trasformati anche in androgeni, ma lasciamo stare l'endocrinologia in questo momento, stimolano la creazione di sebo nella nostra pelle. Quindi ci troveremo con una pelle che di solito, se prima era seborroica o se prima era una pelle normale, può essere che adesso diventi una pelle più secca e più delicata. E ci troviamo anche una pelle spenta. Perché? Perché il ricambio cellulare viene ralentato. E quindi, siccome viene ralentato, nello estratto corneo, nello estratto superficiale della nostra pelle, si vanno a accumulare delle cellule morte che danno quell'aspetto spento, quell'aspetto senza luce della nostra pelle. Quindi, le priorità a livello cosmetico saranno tre. Una, idratare la pelle. Ok? Un'altra, dare degli ingredienti attivi alla nostra pelle, che vadano a stimolare la ricrescita del collagene, che vadano a stimolare quella crescita del collagene, quella sintesi del collagene, e soprattutto a ralentare la distruzione del collagene. E tre, dare degli ingredienti che vadano a creare elasticità nella pelle, che la vadano a rimpolpare, che la vadano a nutrire, a idratare, e a lasciarla più compatta e più nutrita. Evidentemente, se c'è una perdita dell'assietà grande, non è che la cosmetica vi può tirare il viso su. Per quello dobbiamo pensare, dobbiamo parlare di medicina estetica, o di chirurgia estetica. Come tante volte, adesso vi racconto questa, tante volte venite in clinica, vedete le due cosine che cadono qua, e mi dite, io Luis voglio solamente questo. E io dico, cara mia, quello si chiama lifting. Non lo volete sentire dire, ma è così la cosmetica ha delle limitazioni, la medicina estetica ha delle limitazioni, e quelle vengono, diciamo, compensate dalla chirurgia estetica. Ma è vero che a 40-45 anni fa paura pensare a un lifting, o anche economicamente è costoso. Quindi con la medicina estetica, scusate, con la dermocosmetica, possiamo mantenere una pelle sana, una pelle bella, una pelle un pochettino più tonica e più compatta, ma non dovete mai aspettare che la pelle si vada a sollevare. Quindi idratazione, stimolazione di collagene, e compattezza della pelle, sostanze che vadano a compattare la nostra pelle. E senza perdere più tempo, cominciamo con la routine. Io oggi ho scelto solamente quattro prodotti. Ho fatto una cosa molto molto semplice, che ognuna di voi, qualsiasi di voi, la potete includere nella vostra routine, o incluso potete fare una routine solamente con questo. Manca solamente la protezione solare. Ma adesso vi spiego i prodotti. Per esempio, il passo iniziale di qualsiasi routine di cosmetica, e lo sapete tutti qual è, è la pulizia. Quindi dovete favorire i detergenti, o i prodotti di pulizia, che siano idratanti. Quindi, siccome la vostra pelle ha bisogno di idratazione, favorire gli idratanti. Cosa sono gli idratanti a livello della pulizia? Meglio il latte detergente, meglio l'acqua micelare, o meglio l'olio detergente. Eviterei, o lascerei da un lato, per esempio i detergenti schiumogeni, che possono seccare un pochettino la pelle. Io, in questi casi, alle mie pazienti consiglio soprattutto il latte detergente. Il latte detergente super economico, questo della cerave, per la pelle secca e pelle normale. Ha l'acido ialuronico, ha l'aniacinamide, e ha un sacco di ceramidi, di omega 3, di omega 6 e omega 9, che mi dimenticavo. Ceramidi che vanno a ripristinare la barriera di difesa cutanea del derma, di modo che la nostra pelle è protetta. Sono degli oli, diciamolo così, degli, sì, dell'olio, il grasso buono, che ha la nostra pelle, per creare quella barriera di protezione. Questo detergente super economico, ce l'ha tutto. Al mattino, adesso vi consiglio due sieri, perché sapete che dopo la detersione, il passaggio successivo sono i sieri. E qua, non ho voluto creare confusione, ho scelto solamente due sieri. Uno da utilizzare al mattino, e uno da utilizzare alla sera. Quindi, il primo del mattino è questo, della Vichy, il Novadiol, della Vichy, che contiene degli ingredienti molto, molto interessanti. Innanzitutto, hanno un complesso, che loro si chiamano proxilane, insieme all'estratto di cassia, che sono dei potenti stimolatori del collagene. Quindi, non è che abbia il collagene, non è il collagene direttamente, questo siero, perché poi, ne parleremo del collagene, in un altro video, di tutte le creme, che contengono o non contengono, collagene, se quel collagene penetra, o non penetra la pelle. Ma quello sarà, l'argomento di un altro video. Sempre parlando di questo siero, quindi ha quell'abbinamento del proxilane e la cassia, e l'estratto di cassia, che creano e stimolano il collagene. Oltre a quello, ha la niacinamide, che va a regolare la creazione del sebo, perché la niacinamide non è che solamente riduce il sebo, se no che lo può alzare, regolandolo, lasciandolo a un livello di salute, di, diciamo, di buona creazione di livello giusto del sebo della nostra pelle. Oltre a, un'altra cosa che contiene sono la vitamina C e la vitamina E. La vitamina C è un stimolatore di collagene e oltre a quello andrà a dare luminosità alla pelle e a togliere le piccole macchie. La vitamina E andrà a lenire la pelle e a dare idratazione alla pelle. Contiene anche l'acido glicolico, leggero esfoliante, non pensate che contiene una grandissima quantità di acido glicolico perché adesso state pensando ma Luis ci sta dicendo che ce lo possiamo mettere al mattino? Sì, lo potete mettere al mattino e poi contiene anche gli acidi grassi di omega 6 e omega 9 per rinforzare. Alla sera vi consiglio questo altro siero, questo altro siero dell'Aisdin, il Flavocì, melatonin, contiene la vitamina C, quindi l'abbiamo applicata al mattino, la possiamo applicare anche di notte e contiene il vacucchiolo e contiene un ingrediente che ultimamente si sta parlando tanto in cosmetica da qualche anno che è la melatonina. La melatonina utilizzata in cosmetica la conoscete in modo di compresse per andare a dormire, ok? La melatonina si sta vedendo che a livello cosmetico utilizzata di notte può dare dei benefici alla nostra pelle per rigenerarsi, per riprogrammarsi di notte e quindi adesso stanno uscendo in mercato in commercio tanti sieri, tante creme che contengono la melatonina e questo è un ottimo prodotto da utilizzare alla sera per rigenerare la pelle di una donna che sta entrando in menopausa o che si trova già in menopausa, ok? E l'ultimo prodotto di Skincare che vi volevo consigliare sarebbe una crema idratante, vi consiglio una che ha già la protezione solare dentro e che sarebbe questa della Murat e perché vi consiglio questa crema perché uno va a leggerla e dice una crema idratante completamente normale, una crema idratante che contiene anche filtri solari, vi consiglio questa crema per un motivo molto importante perché oltre a contenere l'olio di karité e altri oli che vanno sempre a dare quella mancanza di olio di grasso che ha la pelle di una donna menopausica vanno a dare anche i fitoestrogeni e i fitoestrogeni non sono altro che le alternative agli estrogeni agli estrogeni che il vostro corpo purtroppo non crea più, ok? E quindi questa crema avendo i fitoestrogeni danno quel punto in più di ormoni di cui ha bisogno la nostra pelle. E questo era quello che vi volevo parlare di Skincare. si può approfondire di più possiamo parlare di più posso dare più consigli ma la menopausa non solamente sono cambiamenti a livello della pelle la menopausa ci sono e non ve lo devo spiegare io che ci sono le caldane le palpitazioni l'insonnia lo stress le tachicardie tutte quelle cose che tante volte è molto difficile da controllare e che quelle si curano dall'interno e quindi bisogna o è consigliato prendere degli integratori che possano aiutare a calmare o a temperare tutti questi disturbi diciamolo così non solamente un integratore andrà a migliorare quella parte di caldane palpitazioni insomni eccetera andrà anche un integratore fatto bene come si deve andrà anche a migliorare la vostra pelle quindi l'integrazione l'uso dell'integratore sarà il complemento perfetto alla skin care a livello superficiale e quindi ce ne sono una marea in commercio ho voluto scegliere solamente uno e questo mi ha innamorato perché è molto rivoluzionario nel senso che ha degli ingredienti mischiati molto bene e anche degli ingredienti innovativi ed è questo Strike a Pause di Depura Vita perché lo è scelto allora innanzitutto ha una cosa che si chiamano adaptogeni e cosa sono gli adaptogeni gli adaptogeni sono sostanze derivate dalle piante quindi completamente naturali che ci aiutano ad adattarci ok a una nuova situazione quindi siete in menopause state entrando in menopause e cominciate a avere tutti questi cambiamenti ormonali che creano stress che creano agitazioni che creano palpitazioni che creano alterazione dell'immunità alterazione della pelle eccetera ok queste sostanze completamente naturali andranno aiutare ad adattarsi a questa nuova situazione avassando le vampate avassando il calore avassando lo stress avassando l'infiammazione che c'è dentro del vostro corpo e avassando anche tachicardie palpitazioni insomnia tutto questo mancanza della libido che si presenta anche quindi questo prodotto lo hanno creato di pura vita lo ha creato utilizzando 5 adaptogeni andiamo a verli brevemente ognuno di loro il primo è lo schissandro lo schissandro andrà a lavorare sul fatto delle vampate del calore a ridurre quella parte di agitazione che tanto fastidio dà il secondo l'astragalo l'astragalo va a lavorare molto bene sul sistema immunitario per rinforzarlo e quindi un sistema immunitario forte previene anche di tutte queste alterazioni legate alla menopausa il terzo adattogene il cordiceps che è un fungo medicale che anche lui va a lavorare sul sistema immunitario e va a lavorare sull'ansia lo stress e l'insomnia che crea la menopausa il quarto ingrediente la sawanda che è conosciuto come il ginseng indiano e che è quello che ti dà un pochettino una spinta quando c'è quella mancanza di voglia che dà la menopausa quella che ti cade il mondo addosso che hai un pochettino di depressione questo ginseng indiano ti dà quella spinta l'ultima è la rodiola che è anche un antidepressivo un antistress quindi tutti loro lavorando insieme vanno ad adattare il tuo corpo alla nuova situazione ma non solamente questo integratore contiene quei adattogeni contiene anche altre sostanze che sono importantissime nel momento della menopausa e uno che è super conosciuto e che quasi tutti gli integratori per la menopausa ce l'hanno è il trifoglio rosso attenzione che vi troverete integratori che contengono il trifoglio bianco ma quello che realmente è pieno di un ingrediente pazzesco è il trifoglio rosso che ingrediente pazzesco sono gli isoflavoni gli isoflavoni non sono altro che fitoestrogeni quindi alternative o diciamo la sorella degli estrogeni va bene sono ingredienti naturali ingredienti vegetali che hanno la capacità di fare più o meno quello che fanno gli estrogeni nel vostro corpo e quindi non si sente tanto quella mancanza degli estrogeni quando si abbassano le concentrazioni di estrogeni durante la menopausa l'altro ingrediente è l'olio di borragine l'olio di borragine è carichissimo di gamma linoleico di acido grasso gamma linoleico che non è un'altra cosa che un tipo di omega 6 e che va a fare un'azione anti-infiammatoria potentissima perché la situazione della menopausa aumenta la quantità di radicali liberi e quindi produce internamente il nostro corpo una situazione di ossidazione di infiammazione subclinica che non si vede quindi questo olio di borragine va a dare questo acido grasso il gamma linoleico che va a abbassare l'infiammazione interna infiammazione interna che si vede a livello della muscolatura a livello delle ossa a livello delle articolazioni va bene e anche altri livelli degli organi per esempio e per ultimo ma importantissimo contiene la vitamina D e la vitamina K la vitamina D soprattutto per il discorso dell'osteoporosi della mancanza di calcio eccetera la vitamina K è più pensato al sistema immunitario uguale che c'erano gli adattogeni che stimolavano il sistema immunitario per proteggerci di tutto anche la vitamina K aiuta a fare questo quindi vedete che un integratore innanzitutto molto naturale perché cercavo una cosa che fosse il più naturale possibile perché ci sono tante di voi che non volete la pillola che non volete la terapia ormonale sostitutiva che non volete l'utilizzo di ormoni e quindi cercavo una cosa molto naturale cercavo una cosa che fosse un pochettino nuova non come tutti quelli che ci sono in mercato che sono buonissimi non dico di no ma questo veramente aveva degli ingredienti molto innovativi e cercavo anche la facilità di prenderlo perché questo è una bustina che ve la portate a qualsiasi parte non vi dovete portare il barattolo con tutte le pillole e quindi la bustina che la mettete ovunque se andate in viaggio se andate in ufficio se state un fine settimana fuori non vi dovete portare il barattolo vi portate una bustina due bustine tre bustine quello che vi serve lo mettete in un bicchierino di acqua o un succo o una centrifuga eccetera e si beve e ti dà tutte queste cose meravigliose per trattare il disagio della menopausa tutte queste pampate caldane eccetera eccetera ma tornando all'argomento di questo video va a migliorare anche lo stato della pelle perché abbassando l'infiammazione interna del nostro corpo abbassando la quantità di radicali liberi che si accumulano nel nostro corpo la pelle migliora e migliora la pelle migliorano le unghie e migliorano i capelli e tutto questo era quello che io vi volevo raccontare in questo video di skin care di integratori questo anno voglio mettere un pochettino più del discorso integratori mi sto appassionando mi sta piacendo e sto facendo tanta ricerca quindi se vi piace troverete informazione in tanti dei miei video l'ho detto quello che vi ho detto se vi è piaciuto il video qua sotto vi potete iscrivervi al canale di modo che la notifica ogni volta che pubblico un video il giovedì vi arriva la notifica se vi è piaciuto il video mi potete fare così se non vi è piaciuto il video mi potete fare così se volete lasciare un commento lo potete lasciare qua nell'info box tutti i commenti io poi cerco di rispondere o cerco almeno di leggerli nell'info box avete anche tutta la l'informazione di questi prodotti e anche il link per poterli andare a comprare se vi interessano e la stessa cosa seguitemi su Instagram seguitemi su TikTok seguitemi su tutte le su tutte le piattaforme che alla fine vi stancherete di me no scherzo niente vi saluto vi ringrazio perché questo canale non ha senso senza senza di voi e ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video un pochettino più medico ma ci sono tante persone che me lo hanno chiesto e devo fare questo video mi sento obbligato settimana prossima scoprirete di cosa sto parlando vi saluto grazie a tutti e ci vediamo grazie ciao 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 ciao